E' arrivata con tre bici? Che grande! Che volata che mi hai tirato! Con tre bici! Grande! Vatti 5! Gli occhi della città! Brava Leiti! Brava! Bravissime! Bravo Leiti! Va bene Leiti? Va bene! Non c'è più di gare no? La sera si va a festeggiare molto a di là eh! Si va di là stasera? Eh si eh! Vita! 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 Grazie Vito! Grazie ragazze! Grazie ragazze! Bravissime! Siete fantastiche! Oggi sono molto contenta perché per me era già una vittoria e sono arrivata qua e soprattutto sono siamo venute qua in Georgia con un team fantastico siamo riusciti ad andare da subito da corpo eravamo contentissime anche quando ieri Elena ha vinto era come se avessero vinto tutte e tre e oggi il percorso era duro adatto a tutte e tre insomma erano per tutti che ci piaceva e abbiamo cercato di dare il meglio comunque come squadra siamo andate d'accordissimo fin dall'inizio e oggi perché per noi abbiamo vinto c'è avvenuto in Italia non io singolarmente e siamo da loro con la prestazione e io sono contentissima così ho cercato di finalizzare un lavoro fantastico su FIAT hanno fatto i miei compagni e sono tornato a me anche